Nilde Iotti, prima donna a presiedere la Camera dei Deputati, nasce a Reggio Emilia il 10 aprile 1920. Si laurea in Lettere e Filosofia presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Durante la resistenza collabora attivamente all'organizzazione dei gruppi di difesa della donna e nel 1945 diventa segretario provinciale dell'Unione Donne in Italia. Si iscrive al Partito Comunista Italiano e il 2 giugno 1946 è eletta all'Assemblea Costituente. Entra a far parte della Commissione per la Costituzione e partecipa ai lavori della prima sottocommissione incaricata della stesura della parte relativa ai diritti e ai doveri dei cittadini. I lavori dell'Assemblea Costituente la avvicinano al segretario del PCI, Palmiro Togliatti, al fianco del quale resterà fino alla morte del leader comunista. Eletta alla Camera dalla prima alla tredicesima legislatura, si impegna a fondo nella battaglia in favore dei diritti delle donne e sulle tematiche relative alla famiglia. Dal 1969 al 1979 fa parte della delegazione italiana al Parlamento europeo. Nella sesta legislatura è eletta vicepresidente della Camera dei Deputati ed è tra i protagonisti della riforma del diritto di famiglia, approvata nel 1975. Nella settima legislatura presiede la Commissione Affari Costituzionali di Montecitorio. Nel 1979 all'apertura dell'ottava legislatura le forze politiche affidano nuovamente al maggior partito di opposizione la presidenza di uno dei due rami del Parlamento. Proclamo eletto Presidente della Camera l'Onorevole Leonil De Iotti che ha ottenuto la maggioranza dei due terzi dei componenti dell'Assemblea. Comprenderete la mia emozione per essere la prima donna nella storia d'Italia a ricoprire una delle più alte cariche dello Stato. Confermata nel 1983 e nel 1987 dirigerà l'Assemblea di Montecitorio per 13 anni consecutivi, esercitando il mandato più lungo della storia repubblicana. Nel 1992 ritorna tra i banchi dei deputati ed è ben presto chiamata a presiedere la Commissione Parlamentare per le Riforme Istituzionali che approva un disegno di riforme il cui iter si blocca a causa dello scioglimento anticipato delle Camere. Nella dodicesima legislatura torna a convogliare le proprie energie sulla difesa dei diritti delle donne e si impegna per l'approvazione della legge contro la violenza sessuale. Nel 1999 insiste affinché la Camera accetti subito, già alla prima votazione, le sue dimissioni per motivi di salute e il 18 novembre l'Assemblea, contrariamente alla prassi, le approva. Muore a Roma il 4 dicembre dello stesso anno. Comprenderete la mia emozione per essere la prima donna nella storia d'Italia a ricoprire una delle più alte cariche dello Stato. Io stessa, non ve lo nascondo, vivo quasi in modo emblematico a questo momento avvertendo in esso un significato profondo che supera la mia persona in veste milioni di donne che attraverso lotte faticose, pazienti e tenaci si sono aperte la strada verso la loro emancipazione. Grazie. 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 Grazie.